Sindaco, sulle universiadi, lei teme che l'indotto sperato sulla città di Napoli possa non essere quello previsto? Io sinceramente non lo vedo questo dibattito così preventivo sulle universiadi, a noi serve adesso organizzare le universiadi. Le universiadi organizzarle non è facile, è complicato, ieri abbiamo fatto una riunione a Roma che è andata molto bene, siamo tutti pancia a terra perché le universiadi si facciano bene, che siano un successo, che gli impianti siano pronti, ristrutturati, che la macchina funzioni, che tutte le istituzioni possano cooperare e collaborare. Se questo accadrà sarà un grandissimo successo per Napoli, per la Campania e per l'Italia e i numeri che si fanno saranno sicuramente minori rispetto a quelli reali, quindi sarà un grande successo. Oggi a me però preoccupa farle le universiadi, quello è il tema vero e dopo l'incontro di ieri sono ancora più convinto che non solo si faranno, ma si faranno anche bene.